Già buono ragazzi, pochi ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video Oggi commenteremo la cessione di Milano in Pianic alla Juventus Bella Eccoci qua, tornati Allora, io dico Come cazzo si fa a vendere i Pianic alla Juventus? Va bene, non è vendere il Barcellona e quelli che hanno i sordi si danno i sordi Non è così Pianic ha una cazzo di clausola Io dico La Roma è una società di handicappati Il Napoli e il Guain ha dato una cazzo di 90 milioni Noi Pianic 30 milioni Vedete come cazzo si fa? Cioè Cioè, pallotta A quello non gliene frega un cazzo della Roma Quello c'è sordi e se va a sputtanare le mignote Così funzionano con i ricchi, no? Allora dico Non lo andare a vendere alla Juventus, no? La rivale è tua Cazzo diventa più forte Specialmente la Juve Esploderà Poi non ha fatto l'ora, ma non ha fatto niente Vabbè comunque Bella raga, per questo video esigo 15.000 like E per questo video solo 47.000 iscritti Raggiungiamo i 15 iscritti E raga, giuro Vi mando 3.000 euro nelle case di poste Dovete dirvi i nomi In descrizione E vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti